Musica Sono Luca Pignataro, presidente di GIE Calabria Norte e qui oggi andiamo a rappresentare la cipolla rossa di Calabria che in pochi anni ha fatto veramente una grossa produzione e una grossa vendita in tutto il nostro paese viene conosciuta come simbolo della Calabria oltre all'anduia e altri prodotti che abbiamo ma la nostra organizzazione vuole tutelare e fare promozione di questo ortaggio così prelibato nella dieta mediterranea è molto conosciuta e quindi oggi noi qua andiamo a discutere questa grande opportunità Grazie a tutti Grazie a tutti